eccoci qui buon pomeriggio buon pomeriggio a tutti quanti ben ritrovati come ogni mercoledì al trading live delle ore 16 e per la prima volta in mia compagnia al trading live c'è anche io sono Riccardo Zago e in mia compagnia c'è Vincenzo Penna buon pomeriggio Vincenzo come stai? Buon pomeriggio a tutti buon pomeriggio no tutto bene tutto bene grazie bene allora iniziamo subito questo trading live con altissima volatilità sui mercati infatti andiamo subito a vedere quelli che sono i principali indici con l'S&P che dopo il dato andiamo a vedere i dati che ci sono stati quest'oggi adesso sta parlando sta parlando sta parlando Powell oggi un dato che solitamente può anticipare quelli che sono quelli che poi possono essere i dati di venerdì non far ma però dati molto molto importanti che ovviamente danno ci fanno capire quali sono le condizioni sul mercato del lavoro statunitense uno dei chiaramente dati più importanti a livello macroeconomico l'adp di quest'oggi potrebbe essere un dato anticipatore o premonitore questo non succede questo non succede tutte le volte però notiamo come era previsto un dato di 200 e alla fine abbiamo un 242 quindi un dato in aumento che potrebbe quindi anche far aumentare far aumentare il scusa far diminuire il dato di venerdì andiamo a vedere quelli che sono i livelli più importanti stiamo guardando qui il l'S&P 500 che ha segnato un minimo chiave a 3974 sono entrati tantissimi acquisti su questi minimi quindi ora noi che cosa dobbiamo fare a livello operativo beh andiamolo subito a vedere qui si è creata una zona supportiva ok se i prezzi non scendono sotto questo livello potremo assistere a una bella risalita dei prezzi quindi non shortiamo nonostante questa candela ad altissima volatilità siamo su time frame a 5 minuti time frame a 5 minuti di standard and poor mentre per quanto riguarda delle posizioni rialziste valuteremo solamente dei long alla rottura di questa zona resistenziale ovviamente in quanto alle 16 c'è sia stato c'è stato sia un dato che ora parla paul quindi volatilità volatilità alle stelle solitamente è meglio attendere 10 minuti dopo dopo il primo dato quindi intorno alle 16 10 16 15 cercheremo di capire se il mercato ci darà la possibilità di entrare cercando di capire quella che è la direzionalità e questo per quanto riguarda S&P 500 poi andiamo a vedere anche il Nasdaq so che a tutti voi a tutti voi piace in questo caso andiamo però sul time frame a due minuti per vedere quelli che sono i livelli più importanti anche qui vedete che c'è stato un bel giro rialzista quindi come detto se questo minimo ottiene sarà difficile sarà difficile continuare a scendere però attenzione perché siamo siamo già su delle resistenze chiave quindi per quanto riguarda il Nasdaq abbiamo 12.150 e il segnale che confermerebbe poi un po' di direzionalità long sarebbe 12.170 12.180 quindi manteniamo sotto osservazione questi livelli per il long e per lo short per quanto riguarda invece il Dow Jones adesso lo andiamo a prendere visto che ci sono molte domande anche su questo allora US 30 eccoci qui anche qui andiamo sul time frame su time frame basi e poi chiaramente anche in base alle vostre richieste andremo a vedere time frame più alti anche in ottica multi day prima di commentare anche insieme a Vincenzo i dati macro e allora prima sul time frame sul Dow Jones abbiamo chiaramente molto simile in realtà al Nasdaq perché qui sono entrati sempre degli acquisti importanti siamo però come detto come sul Nasdaq su delle resistenze non semplici da oltrepassare eccole qui questa è una zona chiave e poi la conferma l'avremo con la rottura del volume di apertura che è che si che insomma è qui andiamola a vedere 15.30 vedete questa zona qui la rottura di questa zona aprirebbe nuovi spazi a rialzo quindi in sostanza giusto per concludere il mio ragionamento in ottica di trading in live siamo all'interno di un trading range quando siamo all'interno di un trading range è sempre difficile operare motivo per cui direi fate attenzione abbiamo visto i livelli poi chiaramente anche nelle domande fatemi sapere se avete delle idee differenti in merito allora vado a prendere la sezione delle domande eccoci qui allora buonasera buonasera a tutti dovreste sentire e vedere se datemi un check però mi pare che sia tutto ok come commentiamo questi dati vincenzo del questi ultimi questi ultimi dati che abbiamo visto e attenzione andiamo ad analizzare anche il report che è uscito ieri sì esatto allora giusto faccio un appunto perché diciamo a me pareva un po strano che power parlasse sia ieri che oggi infatti sono andato a fare un paio di controlli in pratica lo stesso discorso che ha fatto e l'ha ripetuto oggi lo sta ripetendo in questo momento però nella diversa nelle diverse camere quindi praticamente il succompo di quello che è stato detto ieri non non cambia ed è un po diciamo credo il perché del dell'apertura diciamo alla news così negativa a parte appunto come abbiamo detto bene tu il l'adp del diciamo dei non farm payroll che ci saranno che ci saranno venerdì è stato diciamo superiore alle attese quindi il mercato io credo che stia utilizzando queste news sai questi spot operativi per andarsi a posizionare in ottica in ottica short soprattutto per diciamo quello che è stato ieri magari lo andiamo rapidamente a vedere il report tu magari mi puoi condividere lo schermo come aspetta poi se vuoi ti lascio sì 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 giusto un attimo così facciamo un attimo vedere anche se in inglese però è giusto per far vedere magari le parti più salienti allora in pratica questo è il sito della federal reserve quindi dove vengono pubblicati dove vengono pubblicate appunto i vari vari report per quanto riguarda le diciamo gli interventi appunto gli interventi ieri pavolo ha fatto questo intervento al congresso e in pratica l'estratto principale è questo questo punto qui diciamo questo terzo ultimo paragrafetto in pratica pavolo cosa ha detto c'è tenuto a precisare che i dati economici che praticamente abbiamo avuto nelle negli scorsi nelle scorse settimane nello scorso mese sono stati più forti del del previsto quindi stronger than expected e questo praticamente gli suggerisce che il l'ultimo diciamo il livello terminale dei tassi di interesse non sarà più diciamo quello che stava scontando il mercato di 5 5 ma sarà revisionato sicuramente al rialzo quindi attualmente il mercato sta scontando un tasso finale del 6 per cento che però ovviamente non non è detto che sarà che abbiamo la certezza che sarà che sarà quello quindi lui ribadisce che comunque se i dati saranno più diciamo indicheranno una crescita più del diciamo più del previsto andrà poi a rivalutare il tasso finale del terminale dei tassi interessi quindi quello che sarà appunto l'aumento mese su mese per quanto riguarda i rate hikes e oltre a questo ovviamente ha rimarcato come i dati per quanto riguarda il lavoro sono ancora molto molto positiva e molto forte infatti proprio il dato di oggi dell'adp lo lo dimostra quindi conferma questa questa visione in pratica i mercati non stanno facendo altro che confermare quello che che appunto diciamo la nuova visione che che sta dando un po che ha dato appunto powell ieri nella conferenza quindi detto questo diciamo questi sono un po i dati poi la parte operativa ovviamente poi dipende anche da da diversi fattori come esempio buchi volumetrici che che abbiamo alle news che ovviamente il prezzo dovrà prima o poi riempire quindi diciamo che l'anese tecnica e la macro dovrebbero sposarsi però non sempre questo accade perché ci sono poi delle degli imbalance volumetrici ben ben definiti come ad esempio abbiamo visto nella giornata di ieri quindi non so saremmo a vedere come come si si muoveranno le cose cosa e i dati diciamo che che vedremo intanto ho visto che c'è stato un altro dato per quanto riguarda il il rate hikes quindi i tassi interessi a livello del canada che praticamente il canada già ehm aveva dato un anticipo di quella che poteva essere eventualmente una pausa per quanto riguarda l'aumento dei tassi di interesse e infatti così è stato quindi la banca centrale canadese si è fermata con l'aumento dei tassi quindi è rimasta sul 4 e 5 per cento e dice o almeno da quel che dice staranno a vedere come il tasso terminale per ora diciamo per ora terminale come impatterà poi sull'economia quindi questo è stato un po un anticipo di quello che si avrà tra qualche mese magari a livello stati uniti e poi in Europa poi si vedrà in Europa diciamo il discorso un po diverso come come abbiamo già visto ora andiamo andiamo subito ehm mi riprendo velocemente lo schermo sì sì eccoci qui ok perfetto allora eccoci qui dovreste rivedere il mio schermo ehm stavo nel frattempo ehm togli il microfono bravo eh stavo nel frattempo andando a vedere quelli che sono i livelli chiave che abbiamo segnalato prima giusto per capire se si può fare un po un tipo di operatività ovviamente operare dopo questi dati è sempre molto pericoloso quindi qualora voi voleste entrare in posizione anche rispetto ai livelli che abbiamo dato attenzione all'esposizione un'esposizione un po più bassa vi proteggerebbe da cambi direzionali molto forti comunque come potete vedere in questo momento sul Nasdaq 100 i prezzi stanno testando esattamente i livelli che abbiamo visto c'è stato un tentativo di rottura non ci sono riusciti c'è un primo ritorno quindi c'è un primo ritorno all'interno del range e come detto occhio perché quando operiamo all'interno dei range è sempre difficile eh è sempre difficile perché sembra che ci sia la la rottura e poi come al solito veniamo smentiti molto interessante anche il test che c'è stato del livello che vi ho segnalato in precedenza eccolo qui 32.845 stesso discorso ancora all'interno del range non fatevi prendere dalla foga perché come vedete qui può può anche rimanere per un'intera ora all'interno di questi 150 punti quindi ehm fate attenzione a short a shortare o a entrare long la view per ora è più è più short scusate che long però con tutti gli acquisti che sono entrati qui non ha senso entrare short andremo solamente a complicarci la vita e a compromettere poi il nostro conto andiamo a vedere però eh come ha resistito bene anche S&P 500 all'esatto livello che abbiamo visto 3.995 anche qui non c'è stata la forza per superare il rialzo questo livello però dobbiamo dire una cosa i prezzi hanno provato a rompere al rialzo delle zone importanti delle zone importanti da cui è partito il ribasso eh di pochi minuti fa quindi anche qui siamo in un range se questa zona viene mantenuta a mio avviso questo livello verrà rotto al rialzo altrimenti dovremo rivedere la nostra view e ritornare più ribassisti che rialzisti allora eh abbiamo visto i tre indici S&P Nasdaq e Dow Jones sui time frame bassi ehm andiamo a vedere anche eh andiamo ad analizzare la situazione anche sui time frame alti per cercare di capire eh a livello multi day la situazione come è impostata e allora andiamo a vedere eh poi ovviamente Vincenzo se tu hai dei trade anche sulle valute così poi ci spieghi anche come funzionerà il tuo mai dopo andiamo facciamo una una rapida occhiata per quanto riguarda appunto i cambi valutari sì ok hai già le analisi pronte tu sì 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 perfetto allora ti lascio lo ti passo lo schermo se vuoi così andiamo a vedere un po' di analisi sui cambi valutari ehm eccoci qui ti passo di nuovo eh ti passo di nuovo lo schermo guardiamo un po' di euro dollaro insomma diciamo le valute più richieste possiamo andare a vedere euro dollaro GBP USD insomma tutte tutte le valute un po' più richieste ecco come sono impostate anche poi chiaramente in ottica intraday sì sì perfetto io poi soprattutto durante le rubriche di caffè mercati della mattina ne parlo spesso perché diciamo mi specializzo un po' su sui cambi valutari e un po' diciamo ritornato al discorso di una politica dei di tassi i cambi valutari sono molto legati alla politica della monetaria delle delle banche centrali e nello giorno di ieri appunto dopo il discorso di Paolo abbiamo avuto questo candelone enorme di circa meno uno e tre per cento dell'euro dollaro che praticamente si è rimangiato in un'unica giornata tutta la fatica che che aveva accumulato noi avevamo detto nello scorso webinar che potevamo valutare eh posizioni long soltanto alla rottura di uno e zero sette e guarda caso si è fermato proprio ad uno e zero sette quindi praticamente i long non sono più sul sul piatto ma anzi dopo la candela di ieri andremo a valutare quello che sono posizionamenti short soprattutto poi è la rottura di livello uno e zero cinque due uno zero cinque uno all'incirca quindi questo è per quanto riguarda l'euro dollaro però soprattutto per quanto riguarda l'euro che dovrebbe da quello che abbiamo detto soprattutto venerdì sai per quanto riguarda l'aumento dei tassi sull'euro zona io mi focalizzo molto di più sul cambio euro gbp quindi euro sterlina perché faccio questo perché allora noi sappiamo che la sterlina quindi la banca centrale la banca of England ha iniziato molto prima con il rialzo dei tassi ed è già vicina ad una pausa quindi noi sappiamo che praticamente la sterlina si svaluterà da questa situazione mentre l'euro ne gioverà ne gioverà perché non è neanche anzi forse alla metà del di quello che è il percorso della banca centrale nell'aumento dei tassi quindi praticamente andiamo ad accoppiare semplicemente due cambi valutari uno molto forte e uno molto debole e li mettiamo assieme l'analisi praticamente che avevo fatto qualche giorno fa su euro sterlina era proprio di vedendo praticamente questi minimi crescenti massimi crescenti sul livello giornaliero e quindi iniziare a trovare ottica a trovare movimenti movimenti long in virtù proprio del fatto di questo candeleone verde in data 28 febbraio quindi all'incirca dello 0 8 per cento avevo detto di posizionarsi long più o meno su area 0 88 che praticamente sarebbe il retest dell'ultimo della rottura appunto effettuata quindi noi praticamente da caffè mercati siamo lonti praticamente da qui quindi adesso vediamo come si muove il prezzo e sicuramente come target primario abbiamo questo quindi area 0 89 5 0 89 7 all'incirca quindi tutta quest'area di nuovo massimo e molto probabilmente appunto romperà quest'area per fare nuovi nuovi massi quindi target finale per adesso e 09 a livello giornaliero abbiamo visto che ha già ritracciato su quattro ore peccato non l'abbiamo preso siamo riusciti a prenderlo in diretta quindi aveva già ritracciato con questa che è stata la vecchia rottura quindi sarebbe stato perfetto l'entrata qui stamattina verso le 11 all'incirca appunto in ottica a longo quindi il 3 diciamo di euro gbp da qui in avanti da qui alle prossime settimane se non mesi è molto interessante in ottica a long quindi io lo tengo sicuramente sicuramente d'occhio discorso invece diverso o meglio omo praticamente medesimo ma per quanto riguarda il dollaro visto che il dollaro anche è molto forte la sigla come dicevo è debole qui invece valutiamo valutiamo operazioni in ottica short qui la situazione è molto più chiara quindi abbiamo avuto una rottura ben precisa dell'ultimo supportone in area praticamente che va avanti da inizio gennaio quindi in area 1 e 18 e questo praticamente è il grafico degli quindi cosa facciamo noi ci posizioniamo quello su quattro ore anche su sull'orario e vediamo di riuscire diciamo di cercare operatività short a me non piace di entrare subito sul breakout quindi su questo livello attuale ma io mi aspetterei un retest almeno di quest'area qui quindi eccola qui di area 1 19 1 1 19 2 quindi qualora il prezzo dovesse ritornare in quest'area non esiterei a quindi a shortare questo che è quindi sterlina dollaro quindi staremo a vedere un po cosa succede saremo a vedere se l'analisi tecnica ci aiuterà a ad unire puntini come piace dire a me e vedremo un po come andrà la situazione per di più volevo un attimo fare diciamo il punto sulla situazione del dollar index che appunto diciamo un po il market mover di tutto il resto quindi è quello che sta muovendo attualmente mercati ed è appena uscito o meglio nella giornata di oggi è uscito tra giornata di ieri e giornata di oggi è uscito da questa forte zona di rotazione tra area 105 2 104 e 4 quindi il dollar index non può che essere che essere long fino a dove fino almeno all'ultimo livello di rottura quindi fino ad area 109 100 all'incirca 109 quindi finché il dollaro il dollar index non ritorna qui io non mi sento di poter shortare il dollaro quindi di poter andare long su euro dollaro oppure di andare long su sugli indici quindi questo è quanto per quanto riguarda diciamo la panoramica per quanto riguarda le i cambio valutari sì io in questo caso allora a livello tecnico non posso che darti ragione infatti abbiamo un dollar index che è tornato sopra la soglia dei 105 bra 105 50 a tra l'altro attenzione qua sta scendendo tutto adesso vediamo se possiamo entrare sul dow jones che ha raggiunto i minimi del dato dei minimi fatti dal dato di prima ma non è ancora stato rotto insomma pressione di bassista vediamo se mantiene se non mantiene valutiamo degli short vai a vedere anche il time frame a due minuti se lo vedi vedete ragazzi i prezzi hanno testato come vediamo dal grafico qui di vincenzo i minimi del i minimi precedenti che vi ho segnalato come zona supportiva ovviamente operare qui difficilissimo molto molto rischioso ancora all'interno del range però abbiamo comunque un'informazione importante rispetto a prima i livelli che abbiamo tracciato sono importantissimi perché sia sulla parte resistenziale che sulla parte supportiva hanno funzionato alla perfezione non dobbiamo avere e allora voi magari chiedete ma perché non abbiamo già parlato beh molto semplicemente perché ora che abbiamo la conferma che questi livelli sono importanti andremo a valutare delle operazioni una volta che questi verranno violati o al rialzo o al ribasso chiaramente ora la view è più ribassista che più ribassista che rialzista oggi abbiamo l'indice dow jones che è più debole dell'indice nasdaq e una sostanziale lateralità di s&p 500 ancora all'interno della lateralità quindi aspettiamo un po guardate con che ha funzionato proprio bene questo questo minimo devo dire non semplice ovviamente da da tradare però sappiamo che una volta rotto al rialzo o al ribasso poi andremo ad operare allora mi riprendo un attimo lo schermo velocemente eccomi qui mi assegno questo dovreste ora rivedere il mio schermo è stato un giro fortissimo ragazzi ora vedete come le nostre vi possono chiamare da un secondo a un altro quindi se entriamo long invece meglio nasdaq che dow jones ci sono delle domande poi sul gas sul gold e gbp od un altro cross valutario che sicuramente andremo che sicuramente andremo a vedere quindi occhio al nasdaq se supera questi livelli sta spingendo sta provando a rompere faccio un po di zoom vediamo se possiamo entrare qual è il difficile in questi casi se volete prepararvi la vostra se volete prepararvi la vostra operatività ricordatevi magari vi fate un 5 contratti una cosa così che però dobbiamo andare a impostare lo stop sotto i minimi ecco per esempio adesso c'è stata una rottura rialzo si potrebbe valutare un long da questi livelli e che un po troppo ampio lo stop quindi aspettiamo un piccolo ribasso e poi valutiamo un'entrata long adesso io sto cercando di capire se vale la pena oppure no se possiamo magari valutare di entrare subito non abbiate fretta se siete aggressivi potete entrare adesso altrimenti aspettiamo un piccolo ribassino per entrare al rialzo allora domanda ovviamente molto pertinente di giampiero che chiede perché se entrate long meglio nasdaq che dow molto semplicemente perché guarda come si è comportato il nasdaq dalle ore 16 e come si è comportato il dow jones vedete vedi come il dow jones è ancora ha fatto il doppio minimo è ancora al di sotto della zona resistenziale mentre il nasdaq dall'altra parte vedi che ecco adesso è partito ha fatto un minimo crescente e ha rotto con questa candela anche l'SMP ha rotto al rialzo ragazzi giusto per essere chiari ecco qui vedete se andrate long sull'SMP adesso potete anche farlo anche con una piccola posizione magari se volete con 5 con 15 proviamo con 5 intanto poi se scende ancora incrementiamo l'SMP ha rotto al rialzo la zona che abbiamo detto prima con questa candela quindi noi che cosa si fa in questo caso si mette lo stop loss di 15 punti dietro la candela se ora spinge bene dopo 5 punti si sposta lo stop loss in pareggio se invece non spinge bene pazienza rientreremo successivamente non è ancora confermato il tutto al rialzo nonostante questa candela ad alta volatilità però ricordo che potrebbe tranquillamente tornare all'interno di questo range comunque proviamo questo long spero di aver risposto a Giampiero per quanto riguarda l'operatività preferendo Nasdaq rispetto a Dow Jones anche se in realtà si può rimanere un po' più tranquilla sul sull'SMP 500 ecco adesso vediamo se spinge bene a livello di obiettivi rialzisti chiaramente dobbiamo aspettare la rottura di questi 4000 qui che non è semplice la rottura di questi 4000 non è semplice andiamo a tracciarla andiamo a tracciare questa linea tratteggiata la rottura di questo livello ci darebbe altri cinque punti al rialzo quindi 4500 potrebbe essere un altro obiettivo rialzista eccoci qui se vediamo che non ci mette troppo a spingere possiamo anche uscire e ritentare successivamente ma con un'esposizione bassa perché le conferme non ci sono ancora però comunque qua prendiamo 70 euro va bene diciamo che il discorso è più legato ad una una situazione non proprio ben chiara da da parte dei dei mercati proprio perché stanno diciamo anche loro cercando di capire la direzionalità con tutto quello che sta succedendo poi una settimana dove parlano hanno parlato e parleranno ancora i banchieri centrali quindi sono molto diciamo suscettibili a cambiamenti molto molto rapidi quindi è molto difficile come situazione soprattutto per andare ad operare con time frame quasi bassi al microfono spento scusa dovete capire siamo tutti e due nella stessa stanza allora stiamo cercando di fare il webinar nella stessa stanza per vedere come va allora come dicevo la rottura di questo massimo aprirebbe la strada ci sono stati dei buoni acquisti ovviamente all'interno di questa candela dell'ultima candela che è questa qui delle ore 16 e 20 è niente mentre aspettiamo questo trade per vedere se spinge oppure no andiamo a rispondere a qualche domanda partendo dal gold o andiamo a vedere questo gold che cosa sta facendo noto che c'è un apprezzamento del bene rifugio per eccellenza negli ultimi minuti quindi attenzione perché sì abbiamo un bel recupero qui abbiamo un bel recupero la rottura di questa zona resistenziale eccola qui il ritesta e quindi secondo me qui se la zona viene mantenuta si può anche valutare un long con una con un eventuale stop al di sotto dei 1810 questo ovviamente ha senso ha senso ma in ottica intraday attenzione ieri c'è stato un movimento importante no tra l'altro esempio è stato appena adesso una zona supportiva comunque abbiamo ieri c'è stato una spinta importante quindi noi andiamo a tracciare il l'escursione di ieri eccola qui qualora dovessimo entrare long sui livelli che abbiamo detto prima ma un eventuale secondo test facciamo attenzione perché come obiettivo possiamo avere il 50 per cento del movimento di ieri quindi 1831 1831 può essere un 32 insomma un primo un primo obiettivo dove puoi portare a casa parte della posizione e spostare stop loss in profitto entrare adesso non so potrebbe essere un po tardi perché i rapporti rischio rendimento in questo caso non sarebbero ottimali 1800 abbiamo 10 punti di target e 10 punti di stop sostanzialmente quindi il rapporto rischio rendimento è uno a uno meglio attendere un nuovo test del livello di 1817 e così abbiamo 15 punti di profit potenziale profit ovviamente e 7 ovviamente 7 e mezzo 7 punti e mezzo di di stop loss questa è la mia view sul gold per quanto riguarda invece una view più ampia è chiaro che ovviamente parlando di trading multiday se i prezzi non ritornano al di sopra di 1851 cioè del massimo di ieri che è questo vado a tracciarlo in rosso se i prezzi non riescono a superare nuovamente questo livello long multiday li eviterei perché potrebbero dare li eviterei perché insomma potremmo prendere alcuni stop quindi intraday long fino a 1831 però per multiday non valuterei nulla anzi qualora sul time frame giornaliero dovesse esserci un pattern della price action o comunque una candela di indecisione barra inversione nella fascia comprata tra il 38.2 e il 61.8 sarebbero delle interessanti a mio avviso sarebbero delle interessanti occasioni ribassiste cosa ne pensi vincenzo sì 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 stavo sono d'accordissimo infatti stavo proprio per intervenire su questo ma anche soprattutto se andiamo semplicemente a valutare il diciamo io lo chiamo il momento quindi la forza con con la quale il prezzo si è spinto sia a rialzo che a ribasso vediamo che comunque in soltanto due candele e si è rimangiato tutto il rialzo quindi lo stesso discorso che facciamo un po prima per l'euro dollaro vale ugualmente con con il gold quindi io valuterei più operazioni a ribasso proprio su un eventuale ritracciamento che tu hai tracciato piuttosto che operazioni a rialzo benissimo allora vediamo se ho risposto alle domande sì Gaetano è già entrato a 1816 complimenti quindi sei già in ottimo sei già in ottimo profitto in buon profitto facciamo attenzione alle scorte dice Enrico GBP Audi e Nasdaq Multiday chiede Mattia allora andiamo a vedere il Nasdaq anche Multiday che so che interessa a tutti eh ragazzi qui il Nasdaq come vediamo ha superato eh ha superato la zona resistenziale che abbiamo detto prima si è fermato sul massimo di oggi sul massimo tra l'altro dove c'è stata l'apertura americana quindi intanto scorte in diminuzione eh scorte di petrolio ok poi andiamo a vedere anche poi andiamo a vedere anche il petrolio comunque stavo dicendo eh quando ci sono quando c'è l'apertura americana dalle quindici e trenta si crea qui solitamente si creano delle zone volumetriche è esattamente questa la zona che si è creata quindi ci sono sì dei minimi crescenti i prezzi stanno tentando l'hanno fatto più volte di rompere eh questa zona resistenziale al rialzo eh che darebbe poi la nostra conferma non so se siete già entrati long sul Nasdaq o sul Dow Jones avevo detto long Nasdaq noi siamo sul nostro S&P 500 con una piccola poi qui c'era una bellissima occasione per rientrare va bene non importa insomma vediamo se rompe o no al rialzo dai ce la sta facendo ce la fa ma certo che ce la fa insomma dai vediamo di spingere ancora un po' di portare a casa qualcosa eh soffia 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 soffiate 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 anche voi eh eccolo là il Nasdaq sta andando anche il Dow Jones si è ripreso un po' eh si rompe questa molto bene aspettiamo un attimo allora il S&P dovrebbe aver raggiunto il primo livello eccolo qui lo vedete quello verde tratteggiato che abbiamo fatto prima bene l'ha raggiunto cinque punti in questo caso visto il dato vista l'alta volatilità e tutto io direi di spostare lo stop loss in pareggio ecco qua la rottura c'è stata abbiamo fatto i nostri primi punti però siamo su delle resistenze attenzione qui i prezzi potrebbero ritracciare se avete allora solitamente magari noi operiamo con cinquanta contratti se avete cinquanta contratti avete fatto molti più soldi ovviamente però qui in diretta è un po' più complesso quindi abbiamo cinque contratti secondo me può salire ancora comunque portate a casa parte della posizione spostate lo stop loss in pareggio eh e vediamo che cosa succede insomma ok chi è che l'ha preso questo bel long spero tutti eh va che sta spingendo ragazzi la soglia dei quattro dei quattromila è importantissima è importantissima sì funziona da zona psicologica zona di resistenza quindi è veramente tosta da superare qualora la dovesse superare però eh capisci che ci sono spazi interessanti a rialzo quindi è giusto comunque spostare lo stop in pareggio perché appunto si tratta di scalping si tratta di movimento particolare quindi è giusto quello che hai fatto il nasdaq è andato sopra il volume dell'apertura quindi ho conferma anche dal nasdaq in questo caso vi dico una cosa veloce si ha senso operare magari qui se volete andare long lo stop loss lo mettete sotto il minimo della candela di rottura sotto la candela di rottura e vedete se riesce se riesce a spingere ancora oh questa è una bella rottura sta adesso vediamo se un ulteriore eh beh no qua qua secondo me sale quindi ragazzi se scende nuovamente noi possiamo valutare un'altra entrata eh un'altra entrata al al rialzo perché ora andiamo a fare una breve analisi allora ragazzi qui come avete visto tutti i livelli che abbiamo detto all'inizio bene abbiamo visto questo minimo qui sono entrati tantissimi acquisti come vi avevo detto prima tanti ma veramente tanti anche qui anche se meno però abbiamo dei minimi che sono crescenti candela ad altissima volatilità andiamo sopra le zone volumetriche di prima andiamo sopra le zone volumetriche dell'apertura americana un altro minimo crescente siamo sui quattromila e altra resistenza però ogni ribasso secondo me è un'occasione di acquisto per andare a quattromila e quattro poi a quattromila e quattro eh direi che a quattromila e quattro si può chiudere eh si può chiudere una parte della posizione se volete lasciar correre tenete presente che su questa zona qui potrebbero esserci dei insomma ritracciamenti un po' più sostenuti quando facciamo questo tipo di operazione una volta che avete eh dieci punti potete ecco adesso siamo scesi un po' però insomma una volta che avete dieci punti potete portare a casa a parte del eh del profitto vale ne intanto mi ha chi mi ha detto che abbiamo preso che ha preso il long sul nasdaq Gaetano ha preso il long da tre mila novecento e novanta sull'S&P 500 eh spero insomma che questo sia stato utile questo trade sia stato utile a tutti e proprio parlando di scalping eh ma non ora parliamo di scalping quello che avete visto ma non sugli indici ma parliamo di scalping sul mercato valutario quindi su euro dollaro GBP USD e tutte le valute più liquide dove si possono fare anche dei tipo si possono fare anche delle operazioni del genere e quindi andiamo quindi eh giusto qualche minuto tanto la nostra posizione l'abbiamo fatta nella sezione dei corsi per ricordare a tutti quanti che proprio Vincenzo ci spiegherà qual è la sua strategia di scalping sul Forex eh ancora per cinque giorni abbiamo il sessanta per cento di sconto a trecento e novantanove euro perché eh perché questo corso dura così tante ore che vedete ben ventuno ore dura ben ventuno ore rispetto che ne so al mio che dura eh molto molto di meno perché andremo a fare scalping live non dico come questa ma simili ehm nelle lezioni a partire dalla lezione dalla lezione sette quindi andremo a operare in diretta per cercare di eh approfondire tutti gli argomenti visti durante il corso e poi anche per operare e per fare trading in live come stiamo facendo eh adesso non sugli indici però ma su euro dollaro GBP USD e quant'altro quindi se volete siete interessati a questo tipo di operatività in scalping ragazzi potete approfittare fino alla prossima settimana del sessanta per cento se invece siete ancora un po' indecisi eh poi dal sessanta per cento scenderemo al cinquanta per cento quindi valutate voi se siete interessati a questo tipo di operatività alcune domande vedo da ehm dalla dalla ti chiedo una cosa ti chiedono una cosa vedo che le lezioni sono alle otto le le scalping live sono alle otto e quarantacinque del mattino ma si può operare solo al mattino o anche al pomeriggio? Ma infatti questa è stata una domanda allora innanzitutto tengo a precisare che come dicevi tu è un corso però sarebbe un percorso formativo perché appunto diamo la possibilità pure delle sei scalping live successivamente eh sì allora eh io diciamo preferisco operare al mattino perché io ho backtestato la strategia al mattino però all'interno del corso spiego com'è possibile eh operare anche al pomeriggio quindi ad apertura sessione americana quindi tra le quindici e le quattordici e trenta all'incirca eh scusate tra le quindici e le sedici e trenta all'incirca e poi addirittura ci sarà anche la parte relativa alla sessione pomeridiana americana quindi le nostre circa diciotto diciotto e trenta quindi avrete praticamente tre slot per poter operare mattina pomeriggio e sera oltre a questo mi sono arrivate altre domande perché è giusto anche che non tutti operano in scalping quindi non sono pratici dello scalping e preferiscono anche fare magari intraday multiday o addirittura eh medio e lungo termine la strategia attraverso le frattalità che poi spiegherò all'interno del corso dettagliatamente è applicabile anche a time frame superiori quindi non è detto che dovete applicare la strategia soltanto per lo scalping è ovvio che se l'applicate per lo scalping è più profittevole perché avete tre slot al giorno per poter operare e quindi scalate molto più velocemente per quanto riguarda il numero di operazioni da fare però se nulla vieta che che potete fare un'operatività quindi di swing trading più di long term quindi sul H4 sul daily diciamo la strategia è la medesima perché comunque la frattalità è la medesima quindi ci teniamo a precisare questo punto perché diciamo sono state fatte molte domande riguardo questa cosa quindi è giusto farlo poi nulla sicuramente ci divertiremo per quanto riguarda le scalping poi il prezzo purtroppo ha deciso Riccardo altrimenti ci tengo a prestare che c'è il lavorone che c'è dietro è immenso quindi quindi ne vale veramente la pena assolutamente sì ne vale la pena eh ho voluto mantenere il prezzo basso proprio per cercare di eh di far di accedere a tutti infatti non è mai stata fatta una promozione al 60 per cento di sconto eh perché l'abbiamo sempre fatta al 50 questa volta ho detto vabbè dai c'è tantissima roba facciamo un 60 per cento per una settimana così quelli che sono veramente interessati possono approfittarne ovviamente tutte le lezioni sono registrate le potete rivedere poi chiaramente se ci sono delle domande avete il numero di Vincenzo potete scrivergli e potete anche confrontarvi con lui eh ovviamente però prima di fare un corso ho detto fammi vedere che cosa eh fammi vedere che cosa sai fare con il eh con un conto allora io gli ho dato un conto gli ho detto allora vedi di non perdermi tutti questi soldi perché sennò mi licenziano e fammi vedere che cosa riusciamo a fare ovviamente eh sono andato a vedere tutti i trade che ha fatto molto molto interessante eh due situazioni allora abbiamo una eh redditività percentuale del 61 per cento un fattore profitto quindi 1,53 un max drawdown al momento dell'1,27 per cento nel mese di febbraio solo nel mese di febbraio però la cosa che mi ha colpito di più è stato questo più 3,25 per cento voi direte non è tanto sì è vero eh magari non può essere tanto 3,2 per cento in un mese ma secondo me lo è per trader professionisti ma questo è stato fatto con che cosa guardate qui questo è un dato importantissimo perché noi siamo di fronte a eh un rischio massimo dello 0,4 per cento quindi un rischio che va dallo 0,25 allo 0,5 per cento questo è importantissimo perché se pensate o comunque siete più aggressivi di Vincenzo più aggressivi o aggressivi come me io lo sono un po' di più ehm ragazzi se rischiate l'uno per cento chiaramente la performance sarà doppia però ovviamente anche lo stress psicologico che si ha nel fare operazioni con lottaggi più alti questo dipende dal vostro conto noi l'abbiamo fatto con un conto abbastanza capitalizzato quindi è stato corretto anche mantenere basse mantenere basso il rischio però insomma vedremo anche come operare in alcuni giorni in altri no in quali orari in altri in che orari non operare eh come vedete questa performance però è stata fatta solo su due strumenti sostanzialmente euro dollaro e GBP USD vedete che c'è anche S&P 500 e Nasdaq perché queste questi concetti possono essere applicati anche su S&P 500 Nasdaq e sugli indici in generale eh però insomma questo è il fulcro della situazione volevamo farvi vedere le performance perché comunque insomma sono state buone io le avevo già viste nei suoi conti degli anni precedenti però ho detto vieni qua su Kimura Trading che voglio vederlo io con i miei occhi e infatti eh buon risultato a gennaio eh scusa nel mese di febbraio vedremo anche come si comporterà nel mese di marzo comunque benissimo così ehm intanto le magari se fai vedere la posizione al volo su S&P sì allora S&P dov'è eccoci qui sì siamo usciti vedete come i prezzi hanno esattamente rispettato questo livello quattromila quattromila un numero tondo qui ci sono tanti volumi eh i prezzi non sono riusciti a oltrepassarlo ma attenzione perché noi siamo ancora in un setup rialzista abbiamo mass minimi e massimi crescenti eh quindi fin quando i prezzi vi do il prossimo vi ricordate che vi ho dato questo su questa zona supportiva ve ne do un'altra un altro livello chiave è questo quindi il minimo di questa candela lì c'è anche il POC c'è sono c'è un casino di roba quindi infatti infatti se ricordo bene tu prima hai letto un commento di di un ragazzo che è entrato proprio su quel livello lì quindi sul retest è stato perfetto cioè praticamente era da manuale l'entrata lì sì da manuale infatti vediamo se fa un altro minimo crescente qui possiamo entrare ragazzi ma io ve lo dico vediamo se riusciamo a fare un altro trade uno lo abbiamo fatto quando si fanno uno due trade così nel pomeriggio poi non fate over trading va bene così ehm però sempre attendere delle conferme sempre attendere delle conferme che per ora non ci sono quindi aspettiamo allora un po' di domande allora Giuseppe dice ciao se salta qualche live ci sono le registrazioni tutto registrato se volete rivedere le registrazioni le potete rivedere quando volete quindi nessun problema ehm se eh Jack chiede della settimana del tredici del tredici quattro se sei in vacanza non ti preoccupare tanto poi dopo un'ora eh la lezione è online e se hai delle domande ti lasciamo il numero di lasciamo il numero di Vincenzo a tutti e così potete anche confrontarvi con lui e poi vedrete insomma che avremo modo di eh rispondere ovviamente a tutti c'è tempo per vedere il petrolio dice Massimo assolutamente sì andiamolo andiamo a vedere il petrolio allora eh se ci sono ovviamente delle opportunità ragazzi io ve lo dico ovviamente se anche voi volete darmi degli spunti io sono qua che guardo i grafici nel frattempo però andiamo a vedere questo petrolio che in molti in molti chiedono ah vediamo cosa abbiamo qui abbiamo il gold che sta ritracciando ok guardate tasto destro andiamo a impostare un avviso sul prezzo crea l'avviso eh fatto buon ah se parte l'avviso insomma andiamo a rivederlo eh abbiamo detto petrolio US oil eccoci qua oh eccoci qui allora US oil fermi tutti vado a togliere l'indicatore di Cimoco che magari di Cimoco noi parliamo domani allora abbiamo il buon petrolio dove noi siamo long in leggera siamo in perdita in questo caso eh operatività mia però eh abbiamo visto questo forte impulso rialzista le due candele che mi interessavano per quello ero entrato long anzi per questa soprattutto per quella del tre di marzo questa candela molto interessante eh mi aspettavo una continuazione a rialzo ieri dopo che ha parlato Paolo anche il petrolio insomma è sceso con è sceso con forza riportandosi al di sotto della soglia dei settantotto però mantengo le posizioni per il momento qual è la tua view invece Vincenzo sul petrolio? Eh la mia view è che il market mover è il resto del dollaro quindi apprezzandosi il dollaro è naturale che si deprezzi un po' quello che che il petrolio è tutto il resto quindi eh praticamente il long di XY è un unico unico trade per per diciamo che racchiude un po' tutto il resto eh il dato del petrolio dovrebbe essere positivo per il prezzo che è uscito poco fa però diciamo staremo a vedere un po' magari se questo è il time frame giornaliero magari se vai sul sul quindici o sul cinque minuti vediamo un attimo come ha reagito a alla news ecco qua infatti il momento della news diciamo il prezzo ha iniziato ha iniziato a tornare al rialzo quindi per adesso sul cinque minuti è rialzista quindi sta rompendo strutture su strutture sta facendo minimi e massimi crescenti quindi almeno eh diciamo in ottica brevissimo termine dovrebbe essere rialzista. il problema è che si trova in un range a livello giornaliero e settimanale che è sempre quello quindi sempre il range 80 82 dollari fino al range di 70 72 quindi purtroppo se che non esce da quello veramente non abbiamo direzionalità per quanto riguarda il petrolio esatto proprio tutto quel range lì che 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 è tosto quindi è duro e non non si riesce a capire verso che direzionalità può andare. ripeto il dato di oggi dovrebbe essere positivo almeno per quanto riguarda il breve termine quindi magari potremmo rivedere cioè vedere ritestare i massimi del del giorno precedente del giorno della giornata di ieri quindi vedremo un po' vediamo un po' come si comporta qui qui nella giornata di oggi. eccoci qui allora eh sì questo petrolio difficile da operare vi ricordate il concetto eh visto prima eh vi ricordate il concetto visto prima del range laterale che stavamo analizzando sul time frame a cinque minuti o a due minuti lo stesso vale per il giornaliero chiaramente i tempi sono differenti ma il concetto è quello quando siamo all'interno di un range è possibile che magari i segnali rialzisti o ribassisti vengano insomma annullati e quindi se si trasformano in falsi segnali questo è un esempio di quello che è successo ieri però dei livelli chiave sono ancora interessanti quindi io mantengo la mia posizione per il momento però è giusto per farvi capire cosa succede quando operiamo in un trend dove non c'è direzionalità questo un su e giù continuo ovviamente come dice come ha detto anche Vincenzo la rottura di basso aprirebbe a spazi più eh più interessanti. Nel frattempo noi torniamo su S&P 500 per vedere se c'è una possibilità stiamo testando esattamente adesso in questo momento questo livello qui questa fascia un attimo che vi duplico questa anzi dai facciamo un altro livello eccola qua questa qua in rosso tratteggiato non entrate long qua mi raccomando fermi tutti. qui se reagisce bene se rompe non si fa niente se qui reagisce bene se mantiene questo livello al prossimo alla prossima candela valutiamo long altrimenti ancora tutti fermi eh nel il Dow Jones nel frattempo è ritornato molto vicino alla fase eh dei sui minimi precedenti vedete anche qui torniamo a parlare di range eh per quanto riguarda invece il Nasdaq eh siamo tornati anche qui nella stessa zona quindi fermi tutti secondo me chi ha fatto long prima ha fatto bene avete guadagnato sono contento. che cosa ne pensate del gas naturale? Eh adesso lo andiamo a vedere assolutamente eccoci qui allora gas naturale time frame giornaliero eh tolgo un po' di livelli noi siamo long sul gas allora abbiamo preso la scorsa settimana un long del 15% all'incirca la rottura dei 2.5 siamo entrati abbiamo chiuso a 2.8 una roba così. ora su questa fase di debolezza abbiamo abbiamo valutato un altro long siamo in leggera perdita in questo momento di poco però eh abbiamo alzato lo stop lo stop loss per quale motivo ve lo spiego? non so se voi siete già in posizione comunque ragazzi ieri c'è stata una buona reazione qui su ecco qui sì in commentanza anche del gap che si era venuto a creare quindi ci stava a poter entrare lungo lì c'è stato un eh no non siamo entrati qui siamo entrati più in alto però c'è stato un bel test di questa zona qui se questa zona viene mantenuta la nostra view rimane longa altrimenti usciamo eh altrimenti altrimenti usciamo mentre prima avevo lo stop loss molto più lontano a 2.4 quindi abbiamo diminuito sicuramente il rischio vedremo vedremo come chiuderà la seduta di la seduta di oggi se non siete ancora in posizione entrare long da questi livelli può avere senso anche perché abbiamo un rapporto di rischio rendimento estremamente favorevole in quanto la rottura dei 2.57 ci porterebbe fuori dalla posizione quindi uno stop molto stretto del 3 per cento a fronte di un di un primo target del 16 per cento anche se in realtà il mio obiettivo se il trend continua è a 3.6 quindi stiamo parlando da questi livelli del più 37 per cento però è anche vero che operare in questa situazione con una pressione ribassista di questo genere aumenta le probabilità di prendere lo stop loss quindi se siete più conservativi attendiamo una inversione o comunque un segnale della price action anche sui time frame inferiori altrimenti lo potete provare magari con una bassa esposizione ecco così non andate a esporvi troppo sul mercato dov'è la linea rossa dice Antonio in che senso dov'è la linea rossa ecco la qua 2.579 2.579 esattamente come la vedi tu sul natural gas io la vedo che il gas natural gas purtroppo deve un attimo riprendere un po' fiducia quindi i mercati devono prendere un attimo fiducia del natural gas perché dopo il rally ribassista che ha avuto in seguito a tutto diciamo quello che sappiamo delle scorte, guerre eccetera non è facile quindi invertire un attimo il trend quindi deve creare un bel supporto quindi deve comunque avere il suo tempo per creare il supporto soprattutto su base giornali e settimanale e diciamo questo potrebbe essere l'inizio di una creazione quindi un inizio di bottom sicuramente molto interessante quindi ci sono ci stanno tutte adesso le entrate longo che tu hai spiegato quindi soprattutto perché su questo livello qua su area praticamente 250 circa da 260 a 240 all'incirca c'è praticamente quella che è stata la vecchia area di distribuzione prima del nuovo minimo che ovviamente è stata super rotta praticamente con la forza che ha avuto nelle settimane scorse e quindi questa come area per un eventuale long ci sta quindi tutta l'area che vada a 2,6 a 2,4 è perfetta per poter entrare long addirittura pure in ottica un po' più lungo termine ecco quindi va benissimo come dicevi tu i target sono sopra la soglia 3 quindi all'incirca di 3,2 magari 3,3 come primo target poi man mano si andrà a verificare giorno dopo giorno quella che sarà la price action non c'è ancora il segnale long sugli indici abbiamo il Dow Jones che riprende di nuovo i minimi rimbalza il Nasdaq vedete guardate qui vedete come il Dow Jones è tornato sui minimi di giornata guardate il Nasdaq ha fatto un minimo crescente quindi capite perché si prediligono i long sul Nasdaq rispetto al Dow Jones se invece volete stare più tranquilli come ripeto c'è l'S&P però non c'è ancora un segnale 16,54 nel frattempo Danilo Grande ha comprato il corso salutiamo Danilo scalping scalping sul forex grazie mille per per la fiducia vedrete che rimarrete soddisfatti anche Flavio ne ha comprato ne ha comprato uno grazie mille grazie mille anche a te e beh dai insomma siamo verso la siamo verso la chiusura siamo verso anzi siamo in chiusura del trading live devo dire grandissimo Vincenzo per questo tuo primo trading live ma ce ne saranno tantissimi altri anche perché con queste performance vedrete che poi faremo trading anche sulle valute perché avete visto come abbiamo visto dalle performance la strategia funziona alla grande e sarà compito di Vincenzo spiegarcela per filo e per segno perché anche io devo dire che ho qualcosa da imparare in merito all'operatività mordi e fuggi con sui cambi valutari più più importanti grazie mille per aver partecipato Vincenzo attiva il microfono allora non va vai ok perfetto eccoci si ti dicevo ti ringrazio comunque ringrazio ti ringrazio gli altri che ci hanno seguito e l'unica cosa che volevo precisare è che se ci sono ovviamente problemi come ha detto Riccardo problemi domande soprattutto non esitate a contattarmi ehm spesso diciamo gli utenti hanno un po' di cioè si preoccupano di di contattarci ma noi siamo qui appositamente per voi quindi in qualsiasi caso ci contattate via chat oppure via whatsapp e vi rispondiamo subito anche per quanto riguarda poi in futuro per quanto riguarda il corso magari se qualche eh concetto non è ben chiaro ci siamo comunque noi quindi siamo completamente a disposizione detto questo comunque vi ringrazio e vi auguro ovviamente un buon trading e una buona giornata ragazzi grazie grazie mille a tutti di nuovo vi ricordo anche Renato grandissimo grazie anche Renato ciao Renato eh anche lui ha preso il corso che questa sera invece c'è il crypto webinar del mercoledì alle ore diciotto quindi se volete invece seguire l'operatività sulle sulle cripto ricordatevi che c'è sempre eh ogni mercoledì alle diciotto questo webinar beh che dire grazie mille Vincenzo per aver partecipato e buona serata e buona serata e buon trading a tutti ciao